Quando già ti hanno ammazzato una volta, non hai più niente da perdere. E allora forse in quella reazione, nel fatto di convertire il negativo nel positivo, è l'unica tua ragione di vita che ti dà la possibilità la mattina di alzarti e di trovare una ragione per dire io sono qui e devo fare qualcosa, perché forse qualcuno ha stabilito che io dovrei continuare ad essere qui affinché la mia voce potesse diventare la voce di qualcun altro. E così ho preso i miei vestiti e mi sono trasferita a San Luca. San Luca è un posto, io sorrido quando ne parlo, perché per me è un posto bellissimo, dove molti, quasi tutti, vedono il male. Io invece ho ritrovato la vita in questo posto.